Sto in compagnia di un frate che non ha bisogno di presentazioni perché è abbastanza conosciuto anche sui social e tutto. Comunque Fran Michele, io do del tu a Fran Michele per diverse ragioni, una delle quali che siamo coetani è Francescani, lui è un francescano religioso e io un francescano laico quindi faccio parte della stessa famiglia. Fran Michele, qualche settimana fa voi frati avete avuto un incontro a Roma in Vaticano, ma spiegaci brevemente di cosa si è trattato. Allora in realtà ho partecipato a due convegni organizzati, uno dal Pontificio Consiglio dell'Evangelizzazione per i Rettori e i Santuari e un altro ho partecipato per mio interesse personale organizzato dal Di Castero dei Santi, quindi erano a distanza praticamente di pochi giorni. Il primo francamente era programmato già da tempo grazie al sostegno della provincia perché essendo il referente dei santuari a livello provinciale sono stato tra virgolette quasi obbligato ad andarci, il secondo è stato per mia scelta personale, però è stato un bel motivo, un bel momento veramente di incontro e di indescambio tra tutti i santuari più importanti del mondo, praticamente Guadalupe, Lourdes, Fatima, erano presenti al primo incontro più di 600 santuaristi o rettori o delegati, mentre il secondo convegno a cui ho partecipato, quello organizzato dal Di Castero dei Santi, erano tutti quelli che lavoravano presso la congregazione dei Santi o inseriti in questo settore e quindi entrambi sono stati due momenti formativi sicuramente, ma anche molto belli, molto significativi, almeno per quello che mi riguarda. Ecco, ma perché ti ho chiesto se ci potevi concedere un'intervista? Perché giorni dopo, in quei giorni, io seguendo un po' i social, anche i tuoi social, ho visto che tu hai avuto, mentre stavate lì nella piazza, è passato il Papa e qualcuno anche ha ripreso con i cellulari, quindi a livello proprio molto amatoriale, che tu hai porto il braccio verso il Papa e gli hai donato un qualcosa, che il Papa ha preso con molta simpatia eccetera. Fra Michele, che cosa hai donato? Si vede che cosa hai donato, però spiegaci, che cosa hai donato al Papa? Allora, diciamo che quando si è palesata, insomma, in genere, quando si partecipa a questi convegni, si conclude sempre con l'udienza del Papa. Tra l'altro il Papa ha anticipato di gran lunga l'orario dell'udienza, doveva essere presente alle 11 doveva iniziare l'udienza, invece alle 10 meno un quarto, già eravamo in aula nervi per la conferenza di Monsignor Fisichella, siamo stati invitati, come dire, ad attendere, ad accogliere prima il Santo Padre perché aveva deciso improvvisamente di anticipare la sua, quindi già questo era un motivo di, diciamo, di euforia, eravamo, come dire, oltremodo contenti perché si era anticipato, insomma. Allora, è così, diciamo che è avvenuto mentre io, Padre Adriano e Maria, la signora della Sala Ricordi, stavamo pensando a questa opportunità di incontrare il Papa. Dette, che facciamo? Che gli regaliamo? Dette, ma se dovesse succedere, perché poi non sai mai se effettivamente succede, gli prendiamo e dice, scegliamo un icone della Madonna, perché può essere, come dire, un motivo per presentare il santuario e chiedere una benedizione a preghiera per i dei voti, però l'abbiamo presa con, anche con, diciamo, con poca fiducia. Si prendiamola, vediamo quello che succederà. In realtà poi è successo quello che non immaginavamo, cioè che siamo andati veramente oltre le nostre aspettative, ma questo semplicemente... E poi stesso, diciamo, il sito del Vaticano... Beh, è stato tutto un disegno della provvidenza, è incredibile, perché l'avevamo presa, allora io avevo visto, avevo adocchiato l'ingresso, sapete che il Papa ha avuto, ha dei problemi di salute, aveva adocchiato l'ingresso dove doveva venire il Papa e quindi mi sono dovuto fare forza, ho dovuto anche spingere una consorella, infatti le foto si vede, la bella sora irrandese, ma qua più corpulenta di me, quindi ho dovuto lottare anche con questa sora per farmi spazio tra le transenne e così attendere il passaggio del Santo Padre. Vabbè, all'inizio non è successo niente perché si è diretto direttamente alla cattedra dove ha tenuto un brevissimo discorso, poi la sorpresa è stata quella di forse salutare tutti i rappresentanti dei, diciamo, dei santuari che erano convenuti in Aula Nervi, passando vicino alle transenne e da premettere che era un piccolo lato dell'Aula Nervi e quindi lì poi è avvenuto questo incontro inaspettato con il Santo Padre, nel quale proprio aspettato il suo passaggio e letteralmente nelle immagini si vede la mia mano che porge al Papa una icona della Madonna dei Lattini, chiede e chiedo una benedizione per tutti i modi del santuario, del nostro santuario. Il Papa amabilmente sorrise, ha sorriso e poi ha continuato il suo giro. Ecco, hai fatto questo dono, poi hai donato anche altre cose del santuario, a nome di tutti quanti noi fedeli appunto del santuario della Madonna dei Lattani. Ma quando tu hai donato queste cose al Papa, ecco, in questo primo passaggio il Papa ti ha sorriso e c'è, ma poi quando c'è stato l'incontro diretto, che ti ha detto il Papa? Perché poi noi conosciamo, ecco, sappiamo di questa simpatia di Papa Francesco, anche di questo suo modo estemporaneo di comportarsi, che ti ha detto quello che ci puoi dire? Certamente, diciamo che l'emozione è stata veramente grande di fronte a questa accoglienza che ha avuto il Santo Padre per i devoti della Madonna. Non più volte, ma questa volta è stata diversa, è stata particolare. Sì, ho avuto l'opportunità di incontrarlo diverse volte a causa di alcuni convegni, anche quando è andato a Napoli, per esempio, però sì, la seconda volta è stata diversa. Diciamo che già c'era nel cuore una grande riconoscenza per quello che ha fatto nei confronti della fraternità e dei devoti del santuario. Così, insieme agli altri frati, abbiamo pensato per questo secondo convegno e questa seconda udienza che era programmata e qui eravamo più sicuri, devo dire la verità che il Papa avrebbe salutato i convegnisti, abbiamo pensato di omaggiargli un prodotto del santuario, il famoso nocillo di Padre Leonardo, il nocilleo, ma l'abbiamo fatto veramente come gesto di riconoscenza per l'attenzione che ha avuto nei nostri confronti, ma anche per presentarli così, con la semplicità, quello che facciamo. E chi meglio di Padre Leonardo poteva rappresentare l'opera del santuario, un frate che a 80 anni e passo, con la sua fatica, la sua difficoltà, riesce ancora a convenzionare questo prodotto per i devoti del santuario, ci è sembrato proprio l'emblema, il dono che potevamo fare al Santo Padre, che poi per arrivarci, per portarlo al Santo Padre è stata una vera impresa, perché poi nei giorni precedenti, il convegno, parlando anche con alcuni miei confratelli che erano presenti, dice ma questi ho i liquori, chissà se lo fanno passare. E allora, conoscendo la situazione, il giorno prima sono andato presso il comando delle guardie svizzere chiedendo informazioni e mi hanno veramente fatto tante domande. Ho detto vabbè, sentite, ma io non sono un terrorista, non ho il fisico neanche per fare il terrorista. Gli ho spiegato il motivo per il quale, dite la nostra fraternità, vuole omaggiare e così. E devo dire la verità, le guardie svizzere, anche la gendarmeria, sono stati molto accoglienti e molto precisi. Ho detto, padre, non vi create nessun problema. Se hai punti di controllo, non ve lo fanno passare, chiamate qualcuno di noi e lo facciamo recapitare noi direttamente nella sala clementina. Quindi già diciamo che le cose si erano messe bene. Quando poi è arrivato il turno di incontrare il Santo Padre, qui viene il bello, quindi mi sono messo in fila con gli altri, con questo scatolo chiuso, chiaramente con queste due bottiglie di nocillo. Tra l'altro, in questo scatolo c'era anche una lettera nella quale ci presentavamo, dicevamo la nostra fraternità che cosa faceva e qual era il motivo per cui noi facevamo omaggio al Santo Padre di questo nocillo, che era semplicemente veramente un gesto di riconoscenza e anche di affetto nei confronti della sua persona per questa attenzione che aveva avuto nei confronti del Santo Padre. Quando arriva poi questo momento, diciamo, importante per noi, ma anche io sentivo tutto il peso della fraternità che mi aveva consegnato questo dono per il Santo Padre, ma anche l'affetto dei tanti devoti della Madonna dei Lattani. Quindi non mi nascolto che ho avuto anche, come dire, un sentore nello stomaco, cioè ero proprio preoccupato. Invece quando poi mi sono proprio accostato al Santo Padre mi sono sciolto letteralmente e gli ho detto, Santità, sabato scorso, durante l'udienza riservata ai rettori del Santuario, ha voluto benedire i nostri devoti del Santuario della Madonna dei Lattani di Tocca Monfina. Siamo una piccola fraternità e abbiamo così, in segno di riconoscenza, le facciamo dono di questo nocillo fatto da Padre Leonardo, che è un frate anziano della nostra fraternità. Allora lui è rimasto un attimo così, mentre lo teneva in mano e lo girava con mia somma meraviglia, allora si è girato, alla sua destra c'era Monsignor Leonardo Sapienza, che è il prefetto della Casa Pontificia a Fragolese di Lascita, il Santo Padre si gira e fa, Sapienza hai fatto tu questo nocillo? Al che se ci siamo messi a ridere, perché poi Monsignor Sapienza che stava un po' più distaccato e chinandosi con la delicatezza evidentemente del momento, perché sai, quando vai vicino al Papa è come si ferma tutto, cioè non nessuno può intervenire in quel dialogo personale, perché voglio dire, è come se ti trovi davanti al Signore, in quel momento stai davanti al Signore proprio, quindi insomma, e allora, Monsignor Sapienza, tu la Santita veramente sarà un altro, allora sarà un altro, ha detto, io fai scherzato, ha detto, sì, Santita non è Monsignor Sapienza, è Padre Leonardo, un frate anziato del nostro Santo Padre, ha detto, beh è buono, ha detto Santita lo provi, è un ottimo digestivo, poi caso vai ci faccia sapere com'è, e così insomma poi, vabbè, ho parlato, insomma, ho continuato poi a parlare del Santuario, di alcuni che avevano chiesto delle preghiere particolari, insomma è stato un incontro veramente non formale, ma informale, ma soprattutto simpatico, ma soprattutto quello che ci ha trasmesso il Papa, cioè questa attenzione nei confronti del Santuario che è stata veramente bella e quindi in questo ci seguiamo incoraggiati nel ministero che svolgiamo qui al Santuario. Ecco, tu facendo questi doni al Papa, naturalmente sono stati dei doni che hanno portato il nome di ognuno di noi che facciamo parte di questa comunità, la comunità dei fedeli, della Madonna dei Lattani. Però ecco, tu hai donato al Papa alcuni oggetti, ma il Papa nel tuo cuore, quando sei ritornato da Roma, da Città del Vaticano, che doni hai portato dentro di te? Così salutiamo tutti quanti con un pensiero un po' più profondo della simpatia del Santo Padre, è della tua, che insomma non è da meno. Beh, diciamo che è un'esperienza profonda, significativa, che chiaramente non puoi ridurre a poche parole, ma quello che è venuto nel mio cuore veramente è stato qualcosa di eccezionale, di sensazionale, cioè l'impressione non solo di portare un'esperienza forte, ma di fare l'esperienza di Cristo, perché il Papa ci riporta a lui, anche vedere un uomo così sofferente, che con tutto è così provato che riesce a guidare ancora la Chiesa, certamente è stato un invito alla speranza, a non abbattersi, ma ha riempito veramente il cuore della presenza del Signore. Cioè io sono tornato veramente arricchito da questo incontro, che non è al di fuori della simpatia che il Papa ha potuto mostrare accogliendo questo gesto, ma certamente l'incontro con il Signore è un incontro che cambia la vita e soprattutto cambia il cuore ed è un'emozione veramente così bella che non potevo non condividerla con quanti ci sostengono con l'affetto e la preghiera. È un motivo in più per ringraziare veramente di cuore il Signore per la nostra presenza al santuario e per impegnarci sempre di più nel servizio e nel ministero che lui chiede di svolgere ad ognuno di noi. Grazie Fra Michele a te e tutti i frati del Santuario dei Lattani e aspettiamo tutti che vengano qui a salutare la nostra madre, la Madonna dei Lattani, e salutare anche i nostri frati e vedere anche gli oggetti che Fra Michele ha dato al Papa che stanno qua, che giustamente stanno a disposizione di tutti i fedeli che vogliono acquistarli. Quindi vi aspettiamo al Santuario dei Lattani, grazie Fra Michele per le tue emozioni che ci hai trasmesso perché nel raccontarle le abbiamo vissute insieme con te. E chissà, alla prossima occasione. Speriamo bene, insomma, non mai porre limiti alla provvidenza. Grazie veramente ad Antonio che ci ha dato questa opportunità, ma è un grazie veramente a tanti devoti, ai benefattori del Santuario che ci sostengono con il loro affetto. Ecco, il nostro pensiero è andato soprattutto a loro, davanti al Papa, perché con la Madonna che è madre di tutti possa leggere il cuore di ciascuno e darci quanto con fiducia ogni giorno gli presentiamo. Grazie. A te Antonio, buona giornata. Grazie.